No, 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 questo no, questo no, questo non deve avvenire, perché secondo me in questo caso pensa a sta persona di far lui una bella figura davanti tutta Italia, davanti le telecamere, ma non è così, non è così, sei un parlamentare, porca miseria. E quindi arriva poi la risposta, magari l'imbecilla è lei, magari, no? Lei non ha dato l'imbecilla a lei, però il modo di fare è che... Smettetela, per favore, guardate, siete patetici, you're pathetic, I just went to your ass. Li prendo a calci nel sedere YouTube? Eh? Mi sanzioni anche qui? No, grazie, fammelo dire, il culetto non è una parolaccia, siamo nel 2024, la cultura wok. Scansate. Vabbè, se a voi, in altri 100 mili iscritti, attiva della campanella qua sotto per ogni aggiornamento di cuore, vi ringrazio ognuno di voi. Imbecille, magari è lei. Ricordo un po' Tajani e Conte. Conte dice a Tajani che... Siete dei codardi, è da codardi. Tajani se la prende sul personale, ma i codardi se vedessano da un'altra parte, onorevole Conte. No, beh, una mia... Era un'offesa politica, era un insulto politico. No, era un insulto, punto, fine. E non sono pro meloni, non sono pro centrodestra o pro destra. Ma questa è roba grossa e macchiavellica. Cioè, un onorevole d'Italia Viva, dice... Non è che fa una domanda, cioè era un... Questo è un time a Salvini, no? Non ha fatto nessuna domanda. Ha detto, è da imbecilli la gestione nel 2019 di Open Arms. Va là, ministro, 147 persone, ma chi difende i confini? Bambini, donne che cercano un futuro e difende i confini, quello. Ma che sta a dire? Ma è da imbecilli. Salvini risponde... Scusi un attimo, a me mi sembrava veramente di sentire PM e non un ministro del suo... Non un ministro, non un deputato del suo calibro. Pacione, se non sbaglio, si chiama. Guardi, io sono orgoglioso di quello che ho fatto nel 2019 come ministro. Sono orgoglioso dell'attuale ministro. E sono orgoglioso del ministro che sto facendo, in questo caso, le infrastrutture da sport. Magari imbecilli dall'altra parte. E poi sono volate altre parole grosse, non tra loro due. Però, comunque, ai microfoni spenti, sento anche un bel vada a fare. Cioè... Ma... Porca miseria. Oh! Ma tutti voi... Ma vi rendete conto che siete pagati con le nostre tasche? Che prendete i soldi da qui? Eh? Ma vi rendete conto? Io non voglio fare il populista. Ma imbecille, lei è un imbecille. Ma vado a fare in coso? Eh vabbè, oh, cento... Allora, Salvini ha pensato di fare un atto politico, ok? Grosso! Andando forse oltre la legge. E sbagliando, forse. Molto sbagliando. Però... Ricordatevi sempre, oltre di quei ragazzi, dei bambini, donne, che c'è anche qui da casa, a guardare gente come voi, che prende appunto i soldi da qui per vedere certe scene. Bene, va là. Ditemi la vostra.